Negli ultimi anni lo sviluppo delle tecnologie e gli effetti prodotti dalla pandemia hanno portato un cambiamento radicale del nostro modo di vivere. Oggi aspettiamo il 5G ma guardiamo già 6G che si svilupperà dal 2030 e produrrà realmente un fenomeno di iper connettività che aprirà degli scenari impensabili già dieci anni fa. Penso ai digital twin, giusto per fare un esempio, che saranno copie digitali di persone, asset o processi produttivi. Penso anche al metaverso che secondo me può essere considerato come un continuum di esperienza fra fisico e digitale mettendo al centro la persona e dando la possibilità di avere un'esperienza più ricca e più fluida rispetto a quelle che abbiamo conosciuto finora. La trasformazione digitale implica e apre dei grandi temi etici e sociali su cui dobbiamo interrogarci. In primo luogo la grande massa di dati su cui si va a lavorare implica la necessità di lavorare sulla curva di assorbimento energetico per far sì che il trasferimento avvenga senza consumare più energia. Altro grande tema è la privacy che deve nascere by design sui nuovi servizi che si vanno a implementare per cui va infusa sicurezza ai consumatori e a tutte le persone. Ultimo tema è quello dei regolatori che devono spingere per lo sviluppo di questi nuovi servizi ma al contempo devono dare una bussola etica per essere dal riferimento sui temi di privacy, inclusività e sostenibilità. Nei prossimi due anni vediamo un accentuarsi dell'utilizzo delle tecnologie su cui il settore assicurativo ha già cominciato a sperimentare. Cito alcuni esempi, parto dai dati e dell'artificial intelligence che avranno un'integrazione sempre maggiore con i processi assicurativi. Computer vision per migliorare le nostre capacità di pricing dei rischi e di underwriting. Natural language processing per leggere in modo veloce e automatico ai contratti e per trasformare in testo le informazioni rinvenienti dai clienti. Secondo grande trend è il cloud che consentirà un'allocazione più efficiente di risorse consentendo, se gestito in maniera accurata, un aumento significativo delle capacità computazionali. Terzo tema, la cyber security. Il metaverso, tutti gli strumenti digitali assieme alle tecniche di computer visioning stanno aumentando i rischi e le capacità di detezione di questi rischi, dando la possibilità di avere degli journey warning o un pricing più puntuali. Quarto elemento da citare è sicuramente l'iperconnettività con l'aumento esponenziale delle connessioni fra individui e fra aziende. Il metaverso può incidere sul paradigma del business sia in termini di proposizione commerciale che in termini di rischi assicurati. Mi piace chiudere citando il tema della sostenibilità che è centrale per le imprese assicurative, che hanno un ruolo importante in questo senso e che devono agire nel pieno rispetto dei paradigmi ambientali e di inclusività sociale che sono i grandi temi dei nostri giorni.